1, 2, togli il gatturo! Vedete il buro? Allora, posizione attacco, Contra attacco dopo che l'abbiamo piegato Giro Ok L'abbiamo piegato e diamo Dallo esterno adesso Molto colpo Giù Eccolo lì E lo finiamo Venti Quindi l'abbiamo piegato e adesso diventa facile Capito? 1 2 Pronti? È la base per assumere la distanza Per assumere la distanza significa assumere il controllo Quindi se resto vicino il problema è grave Se resto lontano il problema è minore Per cui la capacità di prendere la distanza è la prima cosa che dovete fare Ready position La ready position cioè la posizione di pronti al via si prende andando indietro Non c'è ancora una posizione di contatto E la dobbiamo evitare La mano diventa un gel Diventa un finger O finire gli occhi Diventa un pugno Un pugno alla gola Un gomito Ma quello che è importante è lanciare in avanti la vostra lancia E il corpo va in dito Questo perché cerchiamo la posizione del pronti Pronti all'attacco Sono Gestisco la mia difesa ma sono pronto all'attacco Dalla posizione del pronti avanza Intercetto il ginocchio Da questo punto colpo e avanzo Con il mio strike blast Colti a catena O qualcos'altro Ready position Due Contrattacco Ginocchio Tre Vado avanti con il mio attacco Rimani Boom Cross Jam Pugna a catena Quello che voglio Ready position Due Boom Bam 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 Tre Allontano La seconda Bam rompo Bam La terza Col disco Col disco